Ladies and gentlemen, welcome Italy, Lady The Voice Special Guest Art, nata da New York due anni fa. Siamo all'interno dell'inaugurazione straordinaria dello studio Crystal Ink a Milano, in collaborazione con Francesco Ruta a Car Music e eventi musicali. Saluto e ringrazio tutto il mio staff artistico e tecnico alla redazione della televisione e della radio, Radio Rollers Milano, Mr. Lorenzo Caserati. Abbiamo una cantante che ci è venuta a trovare, ospite dello studio Crystal Ink. Vero Francesco, la presentiamo? E' una sorpresona, lei si chiama Ragdoll, adesso gli passo subito il microfono. Ciao a tutti. Benvenuta, amici. Grazie. Su percorso artistico per venire. Allora, io sono uscita sei mesi fa, sono usciti alcuni pezzi, tra cui questo è uno dei miei pezzi, che sono molto contenta, tra poco uscirà un pezzo nuovo, che sarà una buzzetrap, quindi sono molto contenta e speriamo che vada bene. Perfetto, noi ti facciamo il più grande in Gopalupo, adesso faremo sentire il tuo disco, sei radica in televisione e benvenuta all'inaugurazione Crystal Ink. Un ringraziamento speciale Car Music Milano, eventi musicali. Ricordiamo che questo è un suo pezzo, così è la vita, giusto? Andate a vedere sulla pagina YouTube, mi raccomando cliccate mi piace. Ciao a tutti. Grazie a tutti. State un'Italia di di voi special guest star, Francesco Rutta, eventi musicali Milano, la nostra cantante che ci è venuta a trovare, sono i studenti di cuore. A più tardi per un'altra diretta televisiva allo studio Crystal Ink. Stay tuned, ciao!